Perfetto, l'album è davvero magnifico. Cosa manca? La parte è cantata. Diamo inizio al Pijama Party! Ehi, amico! Finalmente ci incontriamo! È bello incontrare voi, ragazzi! Che è davvero magnifica, comunque. Benissimo! Vuoi ascoltarla? No, grazie! Preferisco entrare dentro, scaldare le corde vocali e dare inizio al Pijama Party! Filippo! Sì, l'ho già detto. Io non ho un pigiama, sarà un problema. Non preoccuparti. Ok, Tom, sei pronto? Sì! Perfetto. Musica magnifica in arrivo tra 3... 2... 1... Ma faccio davvero quella cosa che faccio? Cosa? Tomska presenta Ho segretamente paura della musica, l'album di Natale, con brani come... Ehi... Non voglio farlo! Non voglio! Non voglio! Cura disponibile nei migliori negozi di musica! Salve a tutti! Spero che il video vi sia piaciuto! Iscrivetevi al canale originale di TomSky e Jack and Dean! Iscrivetevi anche al canale dei Finder Osbif che hanno gentilmente accettato di collaborare al video! Poi se volete iscrivervi anche al mio canale lo trovate... Beh, sotto al video! Ovviamente! 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 se volete iscriviti al canale! Tornal! Tornal! Tornal!